Coppa Italia, la Passalacqua vince il primo trofeo, un monumento al milite ignoto, i soldati tedeschi sepolti al cimitero di Ibla sono stati traslati a Motta Sant'Anastasia. Un momento atteso, voluto e un traguardo finalmente conquistato, la Passalacqua a Ragusa conquista la prima Coppa Italia della sua storia, mandando letteralmente in delirio il gruppo di super tifosi ragusani che in queste due giorni di Final Four hanno raggiunto il pala romare di Schio per assistere all'evento. Dopo aver battuto Venezia in semifinale per 63 a 58, le Aguil e Biancoverdi si sono ripetute contro Schio che aveva battuto Lucca nell'altra semifinale. Gara subito in salita per le Biancoverdi che in avvio sono andate sotto per 15 a 4, poi Branson e compagni hanno ricucito il match ed è stato contrassegnato dall'assoluto equilibrio fino al finale nel quale la Passalacqua a Ragusa è stata più lucida e si è imposta per 67 a 70. Una Coppa che ha un sapore bellissimo, ha detto il Presidente Gian Stefano Passalacqua, perché è il primo che riusciamo a vincere. Un grazie immenso, oltre alle ragazze e allo staff, anche a questi meravigliosi tifosi che ci hanno seguito fin qui. Mercoledì alle 20.30 al Palaminardi si gioca il recupero di campionata ancora contro Schio per provare a riprendere la testa della classifica. Nuovo colpo di scena sul caso della famosa terrazza di Montalbano, finita ancora una volta nell'occhio del ciclone per presunti abusi edilizi. Dopo le carte portate alla luce dalla trasmissione Le Iene, dalle quali emergerebbe un ordinante di demolizione del 1991, ad oggi non eseguita, relativa proprio alla terrazza più famosa della televisione italiana, il Codacons ha deciso di passare alle vie di fatto e chiedere l'intervento delle ruspe per porre fine a qualsiasi abuso edilizio. Abbiamo deciso di inviare oggi stesso un'istanza urgente alla Procura della Repubblica di Ragusa affinché sia data esecuzione immediata a ordinanze e sentenze rimaste inattuate, spiega il Codacons. Se infatti ad oggi la terrazza della casa di Montalbano risulta non a norma e se in passato vi sono stati abusi edilizi riconosciuti dalle autorità competenti, allora è indubbio che la stessa terrazza va demolita seduta a stante, senza perdere più altro tempo, così come è stato fatto in situazioni analoghe in altre località italiane. Le dichiarazioni del Governatore Rosario Crocetta sulla vicenda sono sconvolgenti, prosegue l'Associazione. Sembrano infatti voler tutelare un eventuale abuso edilizio solo perché il frutto di questo abuso è diventato famoso e amato dal pubblico televisivo italiano, con il rischio di rafforzare gli stereotipi e i luoghi comuni che caratterizzano il Sud Italia. La legge Fornero è cattiva perché ha creato diseguaglianze e sofferenze. La mobilitazione di CGL, Cisle e Wille in piazza Matteotti a Ragusa ha infatti aperto la fase vertenziale del sindacato in Sicilia che ha già messo in cantiere una manifestazione per il lavoro e l'occupazione il 7 maggio a Palermo contro il Governo di Rosario Crocetta. Io credo che stamattina, anche se la piazza non l'abbiamo riempita, ma il segnale che abbiamo voluto dare anche a Ragusa è questo, che questa riforma Monti Fornero, la famosa scellerata riforma Monti Fornero va comunque modificata. Siamo stati su eccellenza il prefetto, abbiamo consegnato la nostra piattaforma dove ci sono alcune proposte significative, ne faccio qualcuno di esempio. Noi non possiamo pensare ancora che ci possono essere lavoratori, qualcuno ha parlato poco fa con me, dove non ha né lavoro né pensione. Ci sono lavoratori a 60 anni che non trovano lavoro perché non trovano nemmeno i giovani, immaginiamoci chi ha 60 anni di età che non ha i requisiti per accedere alle pensioni. Allora noi pensiamo, e questi lavoratori vanno salvaguardati, ci sono state 7 salvaguardi ma ancora non basta, ci sono centinaia di migliaia o migliaia di persone che ancora sono in questo Stato e quindi vanno riviste. Noi pensiamo che l'età pensionabile non può essere oltre i 62 anni, anche con delle penalizzazioni, quindi a base volontaria e che però non possono rigadere solo e soprattutto sui lavoratori, debbano rigadere un po' nelle imprese e anche un po' nei lavoratori. Noi pensiamo per esempio ad un'altra questione che è la questione dei giovani, chiaramente chi avrà la fortuna di andare in pensione con il sistema contributivo andrà in pensione con una pensione che non lo farà nemmeno sopravvivere. Anche qui noi pensiamo che questo sistema contributivo e retributivo va rivisto, non è possibile che chi avrà la fortuna di andarci, ripeto, avrà una pensione da fama. Ecco, questi sono degli esempi, ma abbiamo una piattaforma che presenteremo al Governo nazionale sperando che questo Governo non bypassi più le classi intermedie, non bypassi più il sindacato, si chiede e fa accordi con noi. Sì, anche da questa piazza come sta avvenendo nel resto d'Italia, una risposta forte, tangibile e credo anche incisiva. Bisogna rimodificare la legge Fornero, bisogna rivedere la perequazione, bisogna abbassare la tassazione che in Italia è il doppio del resto di Europa e bisogna creare dai risparmi che si sono fatti con la legge Fornero, 80 miliardi dal 2013 al 2020, bisogna creare nuove opportunità lavorative per i giovani e per quanti anche i non giovani, i quarantenni, i cinquantenni, sono ancora fuori dal mercato del lavoro. Ci auguriamo, speriamo, chiediamo che il Governo e le forze politiche possano rimodificare questa legge che è una iattura per il Paese e per le nuove generazioni. Noi diciamo basta con gli annunci e promesse di interventi e chiediamo al Governo l'apertura di un tavolo serio di confronto con le parti sociali. Riteniamo che è indispensabile ripristinare una flessibilità nell'accesso alla pensione a partire dall'età minima di 62 anni oppure attraverso la possibilità di combinare età e contributi. Prevedere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età e senza penalizzazione. Questa riforma riteniamo sia urgente anche per sbloccare il mercato del lavoro e offrire occupazione ai giovani. Giovani pesantemente penalizzati dall'attuale normativa a assicurare loro un trattamento adeguato e dignitoso, sia per il loro futuro pensionistico che per il sostanziale sblocco del turnover. Infatti Cigelli e Cisle e Will hanno coniato come slogan della giornata di oggi cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovani. Le croci sono rimaste per anni all'interno di un lotto in via Petronilla al cimitero di Ragusaibla. Per anni le famiglie ragusane hanno deposto un fiore in memoria di due aviatori tedeschi deceduti durante il secondo conflitto mondiale. Uno spazio vuoto con all'interno probabilmente erano sepolti due soldati. Adesso, grazie alla ricerca dello storico Gianni Urato, si scopre che i corpi non ci sono, traslati subito dopo le fasi concitate dello sbarco al cimitero di Motta Sant'Anastasia. Lo storico chiede al comune che quello spazio venga comunque tutelato con un monumento al militegnoto. Proprio in questi giorni abbiamo scoperto a Ragusaibla l'esistenza di una tomba che un tempo custodiva due salme di probabilmente aviatori della Luftwaffe tedesca, quindi due aviatori tedeschi, che furono sepolti lì il 13 luglio del 1943, esattamente dopo lo sbarco americano che era avvenuto il 10 luglio del 43. Bene, questi due ragazzi tedeschi, questi due soldati tedeschi provenivano dall'ex ospedale militare Maria Paterno Arezzo. Perché l'ospedale militare? Perché durante la guerra era stato requisito dal comando locale tedesco per avere un ospedale militare specifico per i propri soldati. Quindi questi due soldati che provenivano dall'ospedale furono, che morirono a causa delle ferite riportate in guerra, furono seppelliti presso l'ospedale, presso il cimitero di Ragusaibla. Bene, siccome questi due ragazzi non avevano addosso nessuna piastrina, furono seppelliti come ignoti, soldati ignoti. Proprio in questi giorni, ecco, grazie a delle ricerche che stavo per effettuare, abbiamo un po' ricostruito la storia di questi due ragazzi e di questo, diciamo, piccolo campo dove erano seppelliti i ragazzi. Praticamente, sin dal primo momento, ecco, nel 1943, questo luogo divenne per tante mamme ragusane, divenne il punto di riferimento dove poter pregare anche per i propri figli che erano morti in guerra e che non avevano saputo più niente dei loro corpi. Quindi diciamo che fu per la cittadinanza, per le mamme nostre, proprio ragusane, un punto di riferimento dove poter elaborare il proprio lutto. Nel dicembre del 1943, però, il 21 dicembre del 1943, quindi appena 3-4 mesi dopo la loro sepoltura, i soldati inglesi gli esumarono questi due corpi e li trasferirono presso il cimitero di guerra germanico e americano italiano che si trovava concentrato proprio a Pontolivo. Ancora oggi rimangono alcune tracce di quel cimitero di guerra e che successivamente, poi negli anni 60, verranno trasferiti i corpi di questi due soldati tedeschi, verranno trasferiti probabilmente presso il cimitero di guerra di Motta Sant'Anastasia nel Catanese. Praticamente le mamme continuarono sempre con questa, diciamo, devozione, tra virgolette, con questo pellicrenaggio in queste tombe e pensate, lasciarono pure dei rosari, si reggitava il rosario nei pressi delle tombe e proprio guardando le croci le mamme ricordavano i propri figli che erano caduti in guerra. Quindi diciamo che per noi ragusani questo lembo di terra dove erano stati seppelliti questi due ragazzi per noi ricorda questo punto di riferimento che le nostre nonne ebbero nel cimitero di Ragusa e Ibla per poter ricordare i propri figli caduti in battaglia. Bene, a distanza di 73 anni questo lotto non era mai stato assegnato a nessuno, proprio forse perché in primo momento si pensava che ancora i corpi erano là, però un po' spulciando nei registri degli archivi comunali ho visto proprio dalle date sono risalito alla loro esumazione che avvenne invece nel dicembre del 1943. Perché ci troviamo qua oggi a parlare di questo? Ci troviamo qua perché per scongiurare intanto che questo luogo venga assegnato a cittadini per costruire le proprie tombe e invece trasformare questo luogo che un tempo fu un luogo di preghiera, fu un luogo di sofferenza, di costruire anche un piccolo angolino nel cimitero di Ragusa e Ibla dove Ragusa possa ricordare e possa conservare questa memoria di questo tragico avvenimento che avvenne nel 1943. Un brand tutto al femminile, un marchio fichissime che certifica un prodotto made in Ragusa, capi di abbigliamento e accessori realizzati in sartoria, un prodotto unico nel suo genere che ripercorre i colori e la storia della cultura contadina. L'Associazione Culturale Idei Antigrata ha voluto lanciare una nuova sfida. Questo brand è un brand fresco, giovane, innovativo, che nasce proprio per dare un messaggio molto positivo al pianeta donna, dove comunque le donne sono le protagoniste indiscusse della vita quotidiana di tutti i giorni, nel bene e nel male. Naturalmente questo pomeriggio sono lieta di annunciarvi che il 15 aprile organizzeremo in collaborazione con la Mediolanum un evento, Gli Echi della Moda. Questo evento è molto particolare, non solo perché presenteremo la nostra collezione Fiori e Fuochi che vedrà proprio prendere vita caftani, sciarpe, tutto dipinto a mano, quindi realizzato attraverso l'integrazione artigianale delle artiste presenti in questo progetto e in questo brand. Naturalmente sono felicissima anche di annunciarvi la partecipazione di alcuni ragazzi del Liceo Fiume che hanno realizzato delle creazioni dipinte interamente a mano, naturalmente per mezzo dell'interpretazione dei luoghi di Montalbano e anche del barocco. Naturalmente questo evento è molto importante perché vedrà innanzitutto dei punti espositivi degli artisti dell'associazione che faranno vedere un po' quello che sono le loro abilità nel dettaglio. Quindi anche questo è molto importante. E poi tutto si concluderà proprio con un messaggio molto positivo che vogliamo lanciare. La moda non soltanto come un momento di intrattenimento ma la moda come un momento che emoziona, quindi che genera emozione. Questo per noi è molto importante. Quindi non il classico evento culturale di moda ma un evento che comunque lascia qualcosa di importante che contiene sia aspetti emozionali ma anche aspetti culturali. Insieme alle associate di Dente Grata abbiamo collaborato per creare quelli che sono i capi che saranno presenti alla sfilata di giorno 15 Appoggio del Sole. Cosa abbiamo fatto? È stata un'esperienza estremamente bella e positiva perché abbiamo davvero collaborato e abbiamo integrato le nostre arti e le nostre menti e anche i nostri cuori. Questa è la verità. Abbiamo fatto dei tavoli creativi dove ognuno ha messo le proprie esperienze, le proprie tecniche e abbiamo creato dei prodotti che assolutamente speriamo che possano essere apprezzati da tutti. La cosa bellissima di questo progetto è che davvero è partita da un'idea, da qualcosa che era puramente nelle teste delle diverse persone. Siamo riusciti assolutamente ad integrare le nostre idee e adesso in questo momento vedere i capi, i gioielli, le sciarpe, i dipinti realizzati ci riempie assolutamente il cuore. Siamo davvero contentissime. Si preannuncia una stagione turistica dai grandi numeri. Le presenze durante il Ponte Pasquale confermano come il barocco di Ragusa Ibele e i luoghi di Montalbano sia una delle mete preferite dei turisti tedeschi e inglesi. A Ragusa gli operatori commerciali parlano di un trend in grande crescita con tante strutture ricettive, case vacanze e bed and breakfast sorte nell'ultimo anno. Quello che vediamo al di là dei vari dubbi, sospetti e paure per quello del turismo in questo momento in un momento in cui c'è al giro per il mondo un po' troppa confusione, terrorismo in primis. Invece fortunatamente stiamo vedendo un aumento di richieste. Noi specialmente facciamo tour e transfert, ma più tour. Vediamo che ci chiedono un sacco di preventivi giorno per giorno per fare giri di Sicilia. Parliamo di Sicilia naturalmente, non solo di Ragusa. Ragusa è in Sicilia, però il prodotto che noi andiamo sempre a vendere di più è la Sicilia. In tutte le sue forme, nelle forme culturali, nelle forme ambientali, quindi parliamo di parchi archeologici anche, parliamo di parchi di natura, parliamo di Etna, parliamo di tutto quello che sono le nostre bellissime spiagge e naturalmente i vari beni culturali e tutto quello che gira intorno all'UNESCO. Montalbano naturalmente è sempre un veicolo eccezionale per tutta la provincia di Ragusa, questo ci aiuta molto. Quello che è un fenomeno in continua espansione, con un'espansione molto grande, molto forte, è il settore dell'enogastronomia. Quindi le richieste più grandi nella nostra zona, quindi nella provincia di Ragusa, sono soprattutto dei tour enogastronomici dove si va naturalmente a proporre quelle che sono le cantine, le aziende agroalimentari più importanti, ma più importanti non come la classica azienda blasonata, ma la classica azienda che ha capito che anche nell'enogastronomia fare turismo è diventato molto molto importante. Noi lavoriamo con diverse cantine, abbiamo cantine anche importanti come marchio di produzione, come per esempio Planeta per quanto riguarda i vini, in questa zona abbiamo ottimi prodotti come l'olio d'oliva, pluripremiati, quelli di Chiaramonte e Gulfi, quelli di Frigentini, abbiamo dei frantoi dove portiamo i nostri turisti, soprattutto stranieri devo dire, che vedere e toccare con mano il prodotto, vedere come nasce, da dove nasce, come viene lavorato, come viene conservato, è una cosa che interessa gli stranieri, come interessa soprattutto i bambini anche, perché ci sono delle gite scolastiche dove i bambini sono molto interessati a questo. Forse l'italiano classico o medio è quello meno interessato, o perlomeno dimostra meno interesse. Lo straniero in tutte le sue forme, da tutti i paesi dai quali provengano, gli stranieri sono quelli veramente più interessati. Per quanto riguarda specialmente il settore dei vini, cantine, c'è un interesse grandissimo, un interesse mostruoso. Noi tutti i giorni praticamente siamo in cantina, possiamo dire veramente che questo fenomeno sta andando molto forte, l'interesse è importante, sia da parte, come dicevo prima, degli stranieri che vengano a visitare, vogliono capire, vedere, assaggiare, degustare il prodotto, ma anche fortunatamente dei produttori stessi. Ci sono produttori, facevo appunto prima il nome di Planeta, ma anche abbiamo la strada del Cerasolo di Vittoria, che sta andando molto forte, che hanno investito molto e stanno continuando ad investire sul turismo. Questo significa dare disponibilità, accoglienza, ospitalità, far capire che in questa terra c'è un prodotto di altissimo livello e sta funzionando bene, siamo contenti di questo. La stagione per noi già è full di prenotazioni, quindi speriamo solo di incrementarla ancora di più. La polizza migliore, non quella al prezzo minore. Polizza RC Auto, protezione casa, polizza per professionisti e fideussiore. Una scelta di campo in un mercato sempre più variegato. Fabri ha un'assicurazione, collabora con le compagnie Amissima, S.P.A. e Nobis S.P.A. Fabri ha un'assicurazione in Vietto e Ferra Mosca, 88 a Ragusa. Siamo ormai nella piazza da circa 12 anni e abbiamo una clientela molto affezionata e consolidata. Cerchiamo sempre di adattarci a quelle che sono le esigenze della clientela. Come io dico spesso, cerchiamo di dare al cliente la polizza migliore e non quella al minor prezzo, che spesso può nascondere delle insidie. Cerchiamo sempre di venire incontro al nostro cliente per quelle che possono essere le sue esigenze, sia di carattere familiare che professionale. Abbiamo due compagnie di riferimento. Una è Amissima, che è una compagnia Lex Cari Geo e Assicurazioni, che è una compagnia ormai in mano al più grosso fondo, uno dei più grossi fondi al mondo, che è il fondo Apollo americano. E poi abbiamo la Nobis, che è un'italiana purissima, facente capo al gruppo di Tanno Agnelli. Cerchiamo in questo modo di venire incontro a tutte quante le esigenze della nostra clientela. Abbiamo diverse convenzioni che portiamo avanti, non soltanto per quanto riguarda la scontistica, ma anche per quanto riguarda le garanzie offerte. Per cui abbiamo anche la possibilità di finanziare le polizze tramite diversi istituti di finanziamento, quali possono essere la Compass o Filitalia. E quindi riusciamo anche nelle polizze che hanno un premio più elevato ad essere in qualche modo vicine alla nostra clientela. Le polizze a volte nascondono franchigie, nascondono limitazioni di guida. Noi cerchiamo di non puntare soltanto sul prezzo, ma anche sul servizio. Noi abbiamo anche, per esempio, la formula del risarcimento diretto, che è una cosa ancora poco conosciuta qui a Ragusa, che però è veramente un'opportunità per il cliente, in quanto il cliente, in caso di sinistro, ha direttamente il carrozziere convenzionato, che preleva la macchina incidentata, che dà anche la macchina di riserva, e quindi è un servizio a 360 gradi. Grazie a tutti!